E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in vostro nuovo video. Oggi vi faccio vedere tutti gli squishy, tutti gli squishy che ho fatto e tutti i pop, i pop, i pop, la pop, come le volte a chiamare, comunque li chiamo qui. Beh, questo è il primo, no, questo era il primo, che tu lo schiacci e sponda dall'altra parte, lo schiacci e sponda dall'altra parte, e questo è il primo, pop, poi appassiamo al secondo pop, che sembra come questo, però ha uno, questo non ha due, questo è uno. Fai così, e sponda dall'altra parte. Ok, scusate, sono così scrabocciata, perciò ho fatto questo ora, 5 minuti posto. Poi c'è questo, che l'ho fatto l'altro giorno, quando ho creato questo, che lo devi sempre schiacciare uguale a questo, solo che è più grande, lo devi sempre schiacciare e sponda dall'altra parte. Ed è super bello, in me sono innamorata. Mettiamo qua. Ok, i pop, i pop sono già finiti. Ora passiamo agli squishy. Ok, questo è lo squishy che ho fatto poco fa, che c'è scritto mirtillo, perché se io non scrivevo mirtillo sembrava una patata blu ammufata. Ed è super morbido, ovviamente li imbottisco con i faccioletti morbidi. Se voglio, potete fare anche con il cotone, ma sono anche morbidi così. Cioè, raga, sono super scusciosi, sembra di avere un cuscino piccolo, è bellissimo, c'è raga, è molto morbido. Posso rimastare fuori perché fa un po', un po' caldo fuori. Vabbè, mi sto confondendo oggi. Sono infattinata. Ok, e perciò questo è il primo squishy che ho fatto, scopà. Il primo di tutti che ho fatto questo qui. Il primo è questo squishy. Questo l'ho creato quando ho fatto questo pop. Ok, questo è il primo. E questo è il terzo. Il secondo, il secondo, allora, il primo è qua. Il secondo è questo, che è super gigantesco, raga, non potete capire la morbidezza che ha. È super morbido. Questo è imbottito con fazzolettini e cotone, perché i fazzolettini non bastavano. C'era, non potete capire la morbidezza che ha. Ok, e questo è il primo e questo è il secondo che ho fatto. Questo l'ho creato quando ho fatto questo. Poi questo qui. L'ho fatto ieri. Ok, io ho voluto fare un arancia, però sembra una cotoletta abusata. Ok. Mamma, ma questo è caldo, ma io non so, ma veramente sentono caldo, ma boh. Anzi, volevo dire freddo. Io sento caldo, raga. Comunque, questi sono tutti i miei poppied. Ora, più tardi ne creo un altro. Uguale a questo. Uguale a questo. Però stavolta lo faccio rosa. Mettendo rosa. Mettendo blu. Ok. Questo è il primo poppied. Questo è il secondo. Questo è il terzo. Poi, il primo squishy. Perfetto. Poi, il primo poppied. Poi, allora, il primo poppied è qua. Il secondo poppied è questo. Il terzo poppied è questo. Poi, il primo squishy. Questo sono i poppied. Tutti i poppied. E questo sono tutti i squishy. Ok. Questo è il primo poppied. E questo è il secondo. E questo è il terzo poppied. Poi, qua, passiamo agli squishy. Questo è il primo squishy. squishy. Poi, questo è il secondo che l'ho fatto. Questo l'ho fatto quando ho creato qua. Ed è super morbido. Ragazzi, non potete capire la morbidezza che ha. Ok. E questo è il primo squishy. Super morbido. E questo è il secondo super morbido. Poi, questo è il terzo. L'ho fatto ieri. Che è un'arancia. Sempre imbottita con i cazzoletti. Poi, questo è il terzo. Che ho fatto poco fa. Poco fa. Prima di fare il video. Ok, vediamo. Com'è? 1, 2, 3, 4. Aspetta. Allora, il primo è questo. Il secondo è questo. Il terzo è questo. Il quarto è questo. Anche, siamo dimenticati a condare i numeri. Vabbè. Ok. Allora li mettiamo tutti insieme. Ok. Solo che ci manca un altro poppied. Però ancora lo devo creare. Domani vi farò... No, il video non lo faccio. L'ho fatto con questo. Anzi, non con questo. Ok. Questi sono tutti i... Allora. Questa è la base. Questi sono tutti i squishy. Questa è la base squishy. Aspetta, devo facci vedere meglio. Base squishy. Base poppied. Le sono bellissime. Ok. Ok, raga. Perciò, se volete, iscrivetevi al canale. E questa è la base poppy. Questa è la base squishy. Ok. Se volete altri video come questi, iscrivetevi al canale. Lasciate il like per i miei video. Anche questo. E attivate la campanellina, come sempre, per non perdervi... Aia. La sono qui. Nessun video. Vabbè. Iscrivetevi al canale. Lasciate like a tutti i miei video. Anche questo. E attivate la campanellina per non perdervi nessun video. E vi raccomando, raga. Segnatevi nel calendario. Vi dovete segnare nel calendario. Giugno o agosto. Il mese di giugno e agosto vi dovete segnare. Perché uscirà. Uscirà un video dove andremo a mare. Se io possiamo andare con questa cosa di merda. Vabbè. E comunque. Se noi ci dobbiamo fare il vaccino. Ma io non me lo voglio fare. Perché io non voglio morire per un vaccino. Perché è morta una bambina di 4 anni. Dopo un'ora che si è fatto il vaccino. E perciò io non voglio morire per questo vaccino di merda. Vabbè. Perciò credo. Ho pur fatto la metà. Non ho presito. Non ho presito. Non ho presito.